Diciamo la verità, perché pagare un'agenzia quando viene a casa tua fa 4 foto col cellulare se tutto va bene la pubblica su internet oppure in vetrina con due righe di pubblicità? Quando accompagni in visita potenziali acquirenti a casa tua si limita soltanto ad aprire le porte e a dire il prezzo? O in trattativa non ti fa sentire tutelato? Secondo me hai ragione, in questi casi non dovresti pagarla ma se invece noi ti proponessimo di avere un servizio studiato a misura sulla tua casa foto professionali per promuovere i punti di forza della tua casa video degli ambienti pubblicità mirata come target di prezzo e di clientela presenza non solo nei portali mobiliari tradizionali ma anche sui social con foto e post accattivanti controllo della documentazione vademecum su come presentare al meglio la tua casa verifica di tutti gli aspetti fiscali, legali ed urbanistici pacchetto con scheda e planimetria per ogni potenziale acquirente assistenza nella trattativa, nella stipula e post stipula questo servizio tu lo vorresti? contattaci e studieremo assieme la miglior strategia per la tua casa ci vediamo nel prossimo video